Allora, sempre stando che poi è strettamente collegato anche col settore di ILEP, che anzi riguarda in pieno il settore di ILEP, delle materie prime, qualcuno di voi diceva prima trovare altre fonti di approvvigionamento, come? Bisogna cominciare a guardare sotto i mercati, riuscire a vedere quali saranno le nuove... Ma questo lo fa il singolo imprenditore? Cioè, è lei come imprenditore, ognuno che va a cercarsi altre fonti o c'è un interlocutore più importante che può fare da trattativa per riuscire a risolvere questo problema? Che penso che sia un problema benesteso, insomma. Allora, come dicevo prima, noi imprenditori italiani siamo sempre creativi, innovativi, per cui non ci fermiamo davanti a nessuna difficoltà e cerchiamo sempre di trovare la soluzione alle difficoltà che ci vengono di fronte. Sicuramente non possiamo farlo da soli, ma dobbiamo farlo insieme a una forza politica che ci rappresenta il governo. Esatto, infatti. E questa forza politica deve, come dicevo prima, ascoltare i nostri, ascoltare le imprese artigiane e far sì che le imprese artigiane partecipano ai tavoli che contano, perché poi queste sono le realtà che troviamo oggi. Ma voi l'avete trovato gli interlocutori politici, vi sentite ascoltati, avete visto della possibilità di interagire col governo attuale? Allora, abbiamo avuto la possibilità di interagire col governo, siamo stati ascoltati, ma evidentemente questo non è sufficiente per quello che poi è stato il periodo che abbiamo attraversato con la pandemia e quant'altro, perché poi le difficoltà ci sono state in tanti risvolti, diciamo. Per cui abbiamo cominciato ad avere un'interlocuzione, ma adesso l'interlocuzione che c'è stata deve diventare ancora più importante rivolta alle imprese e rivolta al nostro settore. Anche perché questa è costruttiva, non è un chiedere un'elemosina. E dire, a noi esiste un ministero che si occupa di relazioni internazionali, un ministero dell'economia, che può intervenire in questo senso. Lei Presidente cosa ne dice a riguardo? Perché queste trattative anche che possono essere fatte tra stati, no? Certo, diciamo che dobbiamo fare più massa critica, noi come artigiani. Dobbiamo contare di più. Dobbiamo insistere anche che chi ha il governo e fa le leggi ci tenga un po' più in considerazione. Quindi dovete essere una spina nel fianco. No, ma è vero, la maggior parte del PIL viene prodotto da aziende artigiane, non sono le grosse industrie. Che poi dopo vanno a finire, che portano i proventi, li portano in Lussemburgo o in Inghilterra. Ma anche perché, diciamo, il discorso di riuscire a incidere nei nostri governanti, no? Che l'edilizia, la legge diciamo il 110, invece di correre, come hai detto prima, di correre fino al 2022, lo portano un po' più lungo, hai un po' più fiato. C'è mancanza di prodotto, bene, non è oggi, domani ce l'ho. Ma invece, diciamo, la speculazione la posso cavalcare un attimo, la posso frenare se la cavalco. Però ci deve essere, diciamo, un po' il governo che ci ascolta un attimo di più. Per quello che dico come artigiani, ecco, noi come CNA abbiamo fatto, diciamo, la presidenza di Padova con Luca Montaglini, che, diciamo, abbiamo fatto un bel lavoro la volta scorsa e lo vogliamo fare ancora meglio su questo mandato. Ma, diciamo, in generale siamo stati a Belluno, siamo stati, diciamo, nel regionale. Stiamo lavorando, per fortuna, stiamo abbastanza lavorando bene. Dobbiamo darci, fare qualcosa di più, certo, è sempre bisogno, far sempre bisogno fare qualcosa di più. Però dobbiamo contare qualcosa di più. Ci sarà, a fine anno, ci sarà il presidente nuovo della CNA nazionale e, diciamo, vediamo, l'abbiamo già punzecchiato, che deve essere un po' più presente, diciamo, sui tavoli dove si conta. Assolutamente sì. Perché... Come diceva, ci sono gli industriali, però ci sono anche gli artigiani, che contano anche moltissimo, questo sì. E come la vede il presidente? Beh, sul discorso del materiale bisogna dire che, torno sempre al discorso del gigante, no? Lei prima ha detto che dovrebbero più interloquire gli stati. Allora... Perché c'è il piccolo imprenditore che si ingegna, cioè non ha potere andare in Nigeria a trattare i legni. Vediamo molto poco. Abbiamo visto il G7, no? Abbiamo visto in televisione il G7. È un po' come... Io ho pensato che sia un po' come il gioco della dama, no? Siamo due giocatori di dama, scusi, di scacchi. Dama di scacchi, che è molto più complesso. E uno gioca la sua partita, mentre l'altro sa di avere già vinto. Perché ha visto già che quello che sta giocando insieme a lui è più scarso. Quindi il gigante, e in questo caso torniamo sempre... Torniamo sempre lì. Ha dettato la marcia a livello mondiale. Anche gli americani si sono accorti di essere un po' svantaggiati. Al G7 hanno fatto quadrato dicendo tutti contro la Cina. Tutti contro la Cina perché la Cina ci sta condizionando tutti. Tutto il mondo è condizionato dalla Cina. Però cosa è successo? Poi nelle camere segrete, le stanze segrete dietro, la Germania ha firmato accordi con la Cina. La Francia ha firmato accordi con la Cina. Perché poi alla fine cos'è che vuole lo Stato lavorare? Far lavorare i propri artigiani, far lavorare le proprie imprese. E appunto come hanno fatto Germania, Francia, eccetera, possono farlo anche se... Anche noi potremmo farlo. Però qui casca il vero problema. Di questo gigante ci possiamo fidare o dobbiamo averne paura? Questo è il problema. Lei ne avrebbe paura oppure si fida? Si fiderebbe? Paura no, perché comunque dobbiamo sempre guardare con occhio critico al nostro Paese e a quello che sta succedendo. E essere d'aiuto e supporto alla politica. E come diceva Giovanni prima, essere la spina a fianco della politica. Perché la politica deve imparare ad ascoltare le imprese, deve imparare ad ascoltare gli imprenditori. E noi come associazione questo lo continuiamo a dire tutti i giorni i nostri associati, i nostri artigiani. Per quello continuiamo a dire associati, vi iscrivetevi al CNA perché più siamo, più massa critica facciamo e più riusciamo ad essere presenti sui tali che contano. Ed essere proprio la spina del fianco sulla politica. Perché la politica imparare ad ascoltare gli imprenditori che sono qui, che pagano le tasse, che danno da lavorare alle famiglie, che creano reddito. Perché se no veramente c'è una grande difficoltà negli prossimi anni. perché c'erano sempre di più persone che andranno a lavorare all'estero e impoverendo sempre di più il nostro paese. E questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo far sì di mettere in piedi degli strumenti, degli ammortizzatori, delle leve che aiutino, come diceva prima Sante, anche a far innamorare i giovani per i nostri lavori, per le nostre imprese artigiane. Perché noi artigiani formiamo dipendenti, collaboratori, che poi vanno a lavorare sull'industria. perché le teste pensanti escono nel nostro mondo artigianato. Allora dobbiamo far sì che i nostri ragazzi, questo lo capiscano, vengano a lavorare da noi, si innamorino del lavoro e che siano i futuri imprenditori artigiani dei prossimi 10-15 anni. Perché se manca questo passaggio, l'artigianato è finito. Penso anche solo all'artigianato, all'artistico tradizionale, a tutte quelle lavorazioni che vengono passate proprio dall'esperienza di una persona all'altra. Se non c'è questo passaggio generazionale di questi ragazzi che si innamorano di questi lavori qui, perdiamo tanto, perdiamo tanto di storie, di competenze e di realtà che il nostro paese poi è stato sempre forte e grande e rispettato proprio anche dal mondo intero. Allora dobbiamo trovare insieme, io dico insieme perché quando parlo mi piace condividere questa realtà qui con le altre associazioni e categorie anche, con il Comune, con le province, con la Regione, trovare insieme nei tavoli un progetto, delle alternative, dei progetti per far sì che i giovani vedano ancora il nostro paese come un bellissimo paese, un paese ricco di opportunità per far sì di crearsi la famiglia, di crearsi una posizione economica e un lavoro per portare a continuare. Non andare in Inghilterra a fare cameriere, che poi tutti i sombrai fanno i cameriere, però in realtà poi ritornano qua. Allora noi qua scuola, paghiamo tasse, contributi, la scuola, l'università, poi vanno a fare i camerieri in Inghilterra. Insomma, anche no. Però questo potrebbe essere anche un po' la chiave di volte quello che lei diceva, no? Effettivamente se davanti hai delle potenze, una potenza, un colosso che ha gli strumenti, i mezzi e tutte le possibilità, e l'ha già fatto per accaparrarsi, noi abbiamo un altro patrimonio, abbiamo la creatività, l'innovazione, abbiamo delle menti speculative che altri paesi effettivamente non hanno. In Germania stessa c'è l'abitudine di lavorare per grandi aziende, grandi realtà, noi invece abituati a arrangiarsi, anche nel nord-est si apre partita IVA, il sogno di tanti è sempre stato quello, apre partita IVA per fare i piccoli imprenditori. Questo può essere quell'elemento che può scardinare un meccanismo o diventare utile a quel colosso. È importante essere utili per trarne beneficio, no? Sì, oggi come oggi la vincita di una nazione non si conta più solo sui beni minerari, agricoli del paese, ma oggi come oggi è sempre di più si conta sulla tecnologia. La tecnologia, il colosso ci insegna che con la tecnologia stanno dominando il mondo. Allora noi dovremmo fare che i nostri imprenditori, i nostri ragazzi, che sappiamo benissimo che sono bravi di qualità, sappiano in qualche maniera usare quello che lo Stato mette a disposizione per poter diventare forti nel proporre tecnologie nostre, italiane. Io vorrei agganciare questo discorso perché vorrei essere portavoce di questo messaggio. Noi abbiamo la Sabatini. La legge Sabatini è quella che... In due parole che cos'è, esatto? Praticamente sono dei finanziamenti con garanzia dello Stato che ha dato forza, vitalità alle nostre imprese, ha dato la possibilità di comperare tecnologia a prezzi vantaggiosi con delle detrazioni molto importanti e queste tecnologie dovrebbero essere e sono state ninfa vitale per le nostre aziende. I nostri ragazzi attraverso queste nuove tecnologie possiamo diventare anche noi importanti nel mondo del lavoro mondiale. Perché i nostri ragazzi scappano all'estero perché in qualche maniera non trovano quello che è diciamo stato fino adesso la capacità di andare verso la tecnologia. I nostri artigiani che vadino verso la tecnologia. Spiego. Quindi è un passaggio epocale importante. Non è semplice. No, no, è vero. Però diciamo stavo pensando mentre Sante parlava l'importanza della CNA. Io sono orgoglioso di essere in CNA e da 30 anni forse che sono in CNA e anche con un presidente diciamo, non voglio dire la seconda volta come Luca diciamo che ci diamo da fare. Ma è importante perché perché è vero che la Cina è un gigante ma noi abbiamo il 98% di menti che superano quelli della Cina. Cioè loro hanno sì hanno quei pochi diciamo no quei pochi ingegneri o chiamali come vuoi ma diciamo basta solo e cavalicarlo un attimo. Le faccio un esempio. e la Cina sta acquistando oppure ha già fatto acquistando la gran parte dell'Africa. L'Europa dov'è? L'Europa dov'è? Cioè è qua che ci stiamo dimenticando. La Cina ha già acquistato metà dell'Africa e noi dove siamo? Sono andati anche su Marte adesso? Sì sono andati anche su Marte ok però io che sono stato anche in Africa vedi di quei di quei lavori che sta facendo strade infrastrutture i cinesi e se la accaparano fanno un contratto per cento centocinquant'anni e noi? Cioè Europa? Ma infatti per quello dicevo contando di più come paese come Europa per riuscire a essere interlocutori più forti perché ovviamente il singolo perché io immagino anche l'intraprendenza di un imprenditore che si dà da fare che apre nuovi mercati ma è sempre un piccolo imprenditore che poi sarà in balia di ricatti anche di vario genere perché quando parliamo con certi paesi si ti daranno anche la materia prima ma a qual prezzo? Se è un paese che tratta se è un'Europa che tratta perché questo credo ne abbiamo parlato anche con altri è un problema internazionale europeo europeo proprio cioè mondiale e però riguarda bisogna far forza e reagire insomma Allora ci sarà di tanto da parlare quindi riprenderemo questo argomento un po' una battuta in chiusura lascia lei la parola Allora innanzitutto saremo sempre la spina al fianco della politica con la mia presidenza che loro due sono due imprenditori dentro della mia presidenza ma la presidenza è fatta di tanti imprenditori capaci e bravi come loro e sono sicuro che insieme con loro faremo tanto per la nostra associazione e per le nostre imprese artigiane sul territorio provincia comune e regione perché insieme con loro siamo la parola e la voce della nostra associazione della CNA faremo non solo questo faremo alternanza scuola lavoro sempre più presenza trasversalmente in qualsiasi modo con la politica e in aiuto alle imprese per far sì che poi andare a completamento nell'area vasta Padova e Rovigo per aiutare anche le imprese e il territorio a diventare più importante e la nostra associazione a essere la più importante in Veneto come associazione per cui un grande lavoro che ci aspetta nei prossimi 4 anni ma sono veramente fiducioso e mi sento sereno perché sono insieme con persone veramente capaci competenti brave come hanno dimostrato di esserlo fino e appassionate e appassionate questo è senza dubbio vero benissimo questo è incoraggiante ci sono difficoltà però se ci sono associazioni di categoria che sono fatte di persone convinte che hanno proprio passione almeno possono aiutare e supportare gli imprenditori che ne vogliono far parte perché insomma poi si fa parte di una grande squadra è anche molto utile e strategico per risolvere poi i problemi da soli è difficile farlo bisogna sempre più far massa critica sostanzialmente io vi ringrazio naturalmente buon lavoro in bocca al lupo per questa nuova tornata ma ci vedremo ancora insieme sicuramente io invito i nostri tre spettatori a scrivere direttamente alla CNA c'è la CNA provinciale di Padova ma c'è le CNA territoriali oppure a mandarci degli stimoli alla trasmissione intanto buona pubblicità restiamo ancora insieme c'è un'altra parte un'altra intervista ci vediamo tra poco grazie a tutti